che camminava tenendosi in disparte. Guarda, sta venendo l'arago. Il salumiere vide dalla strada avanzare un uomo magro ma energico, che camminava tenendosi in disparte, rispettoso dello spazio suo e di quello degli altri. Nessuno sapeva molto di lui alla Barenna. Lo chiamavano l'arago, che in dialetto significava lo strano, perché per molti la sua figura aveva una forza indefinibile eppure reale. L'uomo dimostrava circa 40 anni, parlava poco ed era gentile con tutti. Appariva nel quartiere a intervalli regolari, per comprare un po' di cibo e qualche libro. Entrò nella salumeria e si avvicinò al banco. Con calma e in modo veramente magnifico disse «Vorrei un po' di mozzarella». Il salumiere lo guardò attraverso le spesse lenti d'amiope. Gli piantò sul viso due occhi come due chiodi minuti. Voleva beffarsi di lui. «A treccia o a bocconcini?» chiese allusivo. «A treccia», rispose l'arago e lo fissò negli occhi. Sulle prime l'uomo cercò di resistere allo sguardo, ma poi intuì che quello sguardo gli mostrava una via che lui non conosceva. Una via di grandi sentimenti, che potevano spingere un uomo verso orizzonti per lui ancora inconcepibili. Pesò la mozzarella e ne fece un pacchetto. Salutò educatamente.